Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera retato stradale toscana in FIPILI. Guidare con prudenza per la nebbia a banchi in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio. In FIPILI si segnalano lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonteblanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla strada regionale 69 di Valdarno restringimento di carreggiata e all'occorrenza senso unico alternato tra i chilometri 25,370 e 25,400 nel comune di Fillina e incisa Valdarno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!